Signori buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai, io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale. Cominciamo con questa settimana a trattare gli argomenti più sostanziosi per quello che riguarda il world building, cioè andare a creare un'ambientazione vera e propria. L'argomento ce lo porteremo avanti per tutto il mese e probabilmente anche fino a novembre, adesso sto ancora finendo di organizzare il materiale. Per semplicità ho deciso di organizzare tutto il materiale in tre video principali, uno sulla fisica che è questo, uno per quanto riguarda l'ambiente sociale e poi un ultimo diciamo sul sistema magico ma non solo, poi vedrete. Poi ognuno di questi video avrà i suoi sottovideo nell'arte del masteraggio. Prima però una comunicazione di servizio. Domenica 25 ci sarà come tutti gli anni il video speciale per il compleanno del canale e come oramai è diventata tradizione colgo l'occasione per rispondere alle vostre domande non inerenti necessariamente allo specifico argomento del video. Quindi se avete domande da farmi anche che magari non riguardino il gioco del ruolo specifico non lo so, scrivetevele qui sotto. Io così ho il tempo di raccogliere tutte le domande e poi rispondere in maniera adeguata nel video. Dato che ho bisogno di tempo per preparare il video, raccogliere domande è ancora per questa settimana. Quindi se avete qualcosa da chiedere sbrigatevi. Detto questo torniamo a noi e come ho detto prima questa settimana andiamo a vedere la fisica della vostra ambientazione. Con fisica dell'ambientazione voglio intendere tutte quelle parti fondamentali che fanno il funzionamento intrinseco della vostra ambientazione che sono al di là della capacità di manipolazione dei giocatori e in realtà una volta iniziata la quest anche al di là del controllo del master. Quindi parliamo di tutti quegli elementi fisici veri e propri, la forma dei continenti, la posizione delle montagne, il funzionamento del clima ma anche le vere e proprie leggi fisiche, come funziona la gravità e potrebbe anche in qualche modo parlare di come funziona la magia ma per quello faremo un video a parte più avanti. Diciamo che in questo video per ora non andremo a scendere nei dettagli. Ovviamente nel mondo reale la posizione delle montagne, la forma dei continenti e il funzionamento della gravità non funzionano in maniera casuale, hanno delle motivazioni ben precise. Questo però non necessariamente è vero anche nella vostra ambientazione e anche nel caso potrebbero essere degli aspetti che semplicemente non sono rilevanti per la storia. Cominciamo subito col dire che tutti gli aspetti immutabili fondamentali da cui dipende la vostra ambientazione dovrebbero essere comunicati il prima possibile ai giocatori e nel caso voi non stesse utilizzando un'ambientazione già stabilita, un'ambientazione prefatta ma ne stesse scrivendo una a voi, sarebbe il caso che i giocatori venissero coinvolti direttamente nel processo di scrittura dell'ambientazione stessa. Coinvolgere i giocatori o comunque comunicare la natura del mondo ai giocatori prima ancora magari dell'inizio della stesura della campagna stessa è importante sia dal punto di vista del gioco vero e proprio perché i giocatori dovranno poi prendere decisioni per far agire i loro personaggi quindi come funziona il mondo è una di quelle cose decisamente relevanti per prendere poi delle decisioni motivate e dall'altra parte per una questione di coerenza del mondo, coerenza di gioco mettetela come volete, come funziona il mondo dovrebbe essere un'informazione basilare scontata per tutti i personaggi che quel mondo lo abitano. Ricordate che per quanto il vostro mondo possa essere bizzarro, fantastico, fantascientifico quello che è, per gli abitanti di quel mondo quella è la normalità e come vanno le cose del mondo. Se il vostro mondo fantasy è una sfera cava al cui centro c'è una fonte di energia magica che illumina l'interno e la gente vive camminando sul bordo interno del mondo dove i fiumi scorrono al contrario risalendo le pianure dai mari arrampicandosi sulle montagne e poi perdendosi nel cielo, per gli abitanti di quel mondo tutto questo è perfettamente normale e troverebbero strano il contrario. Vedere un fiume che si perde nell'infinito del cielo non è più strano per loro che per noi vedere arrivare un autobus. Considerate anche però che un mondo del genere porterebbe a delle questioni che voi come master dovete analizzare e risolvere nella fase della creazione dell'ambientazione. Un mondo illuminato perennemente da una sfera magica al centro, come funziona il calcolo del tempo in un mondo in cui non esiste il giorno e la notte? La gente quando dorme? dorme quando gli pare o hanno degli orari rituali? Che tipo di flora e di fauna possono sopravvivere in un mondo del genere? Se avete intenzione di allontanarvi così tanto nella realtà fate sempre molta attenzione a giustificare sempre tutto e mantenere una coerenza interna. Molti master si lasciano trasportare dalla voglia di meravigliare i propri giocatori e quindi si fanno scappare la mano inserendo una quantità di materiale che in realtà non sanno quanto può andare a influire effettivamente sulla storia. È facile dire il mondo è una sfera cava con una sfera di magia al centro che la illumina ma riflettendoci a questo punto vorrebbe dire che in quel mondo non esisterebbe l'alternanza del giorno e la notte. Ogni punto dell'interno della sfera sarebbe equidistante dal suo sole e sarebbe ugualmente illuminato per tutto il tempo e sempre per lo stesso motivo non esisterebbero neanche le stagioni né le fasce climatiche. Tutto l'interno della sfera avrebbe grossomodo la stessa temperatura e grossomodo lo stesso bioma. Ovviamente però non deve essere così ci potrebbero benissimo essere delle motivazioni sul perché all'interno della sfera ci sono zone di luce di ombra giorno e notte o perché ci sono delle divisioni interne o dei microcrimi. Magari attorno a questa specie di stella magica ruota un qualche tipo di luna che quindi proietta una fascia di ombra sulla superficie della sfera causando fondamentalmente l'equivalente del loro ciclo giorno e notte. Magari la superficie interna della sfera non è regolare e quindi ci sono montagne e continenti separati da oceani ognuno dei quali ha un suo microclima diverso magari influenzato da altri fattori. Magari alcuni continenti hanno dei vulcani magici che li rendono più freddi o più caldi e di conseguenza ogni continente ha una sua flora una fauna diversa. So che a dirlo così sembra che sia una cosa estremamente facile ma non fatevi ingannare io sto leggendo un testo ho avuto tutto il tempo per pensarci con calma mentre scrivevo il video non sto improvvisando. Per quanto però la voglia di meravigliare i giocatori sia forte questa e lecita solo se come in questo caso tutto il materiale è stato pensato e preparato prima dell'inizio della storia. Se non avete riflettuto sul vostro mondo una singola domanda legittima da parte di un giocatore come per esempio quella del sì ma se il sole al centro della sfera come mai è venuta la notte a cui voi non avete una risposta farebbe crollare tutta la sospensione dell'incredulità andando a rovinare il vostro lavoro e di conseguenza quello che doveva essere una meraviglia per i giocatori in realtà è diventato un elemento che peggiora l'esperienza di gioco. A questo punto però se dovete inserire tutti questi ulteriori elementi fantastici per fare in modo che la vostra ambientazione all'interno del mondo cavo in realtà funzioni esattamente come un mondo normale viene a domandarsi che motivo c'era di ambientare la campagna all'interno di un mondo cavo. Avete inserito una quantità di elementi fantastici che vi ha costretto a inserire un'ulteriore quantità di elementi fantastici per annullare i primi e renderli meno fantastici. A questo punto avete semplicemente aumentato a dismisgura il grado di complessità dell'ambientazione, avete aumentato le informazioni che i giocatori devono avere per prendere decisioni motivate all'interno di questa ambientazione senza in realtà averne nessun vantaggio concreto. Alla fine il mondo è esattamente lo stesso di qualsiasi altro mondo. Per questo motivo ogni elemento bizzarro che inserite all'interno della fisica del vostro mondo deve sempre avere una giustificazione che vada al di là del mero effetto wow che possa fornire ai giocatori. Di questo poi parleremo meglio la settimana prossima ma cominciamo col dire che ogni elemento che inserite nel vostro mondo che si discosti dalla realtà deve essere inserito per spingere i giocatori o la storia verso una particolare direzione che sia un'estremizzazione che sia un elemento satirico ma deve avere una sua giustificazione. Senza contare che ogni elemento bizzarro che inserite nella vostra ambientazione magari per motivi filosofici o semplicemente per come si diceva generare un effetto di meraviglia nel pubblico potrebbe comunque essere utilizzato contro di voi. Questa è una cosa che ho visto accadere un sacco di volte. Dozzine e dozzine di master inviperiti del fatto che avevano introdotto qualcosa all'interno dell'ambientazione per i motivi più disparati e poi i giocatori hanno preso quell'elemento e in qualche modo l'hanno manipolato per cercare di ottenere dei vantaggi meccanici, aumentare i propri danni, aumentare le proprie possibilità con i master che si inferocivano perché in questo modo i giocatori rovinavano quello che loro avevano creato. Nella maggior parte dei casi però questo non è che si tratta più di tanto di un errore da parte dei giocatori che non capiscono la filosofia dell'ambientazione del master ma di un errore di valutazione da parte del master che c'era un uso ovvio di qualche elemento che a lui è sfuggito e che se vogliamo partire da un principio di verosimiglianza in realtà non sarebbe sfuggito agli abitanti di quel mondo. Dopotutto gli abitanti del nostro mondo hanno sfruttato l'ambiente circostante per creare la tecnologia che vi permette di vedere questo video. Qualcuno una volta s'accorto che il petrolio brucia e l'ha usato per fare il fuoco. Non c'è niente di strano. Se il vostro mondo contiene delle scintille di magia che volano per aria qualcuno cercherà di imbottigliarle e sfruttarle come fonte di energia. Questo è razionale. Anche di questo parleremo in dei video più avanti con un paio di esempi particolarmente ridicoli. Diciamo che per questo video è tutto. Non voglio farlo durare più di tanto tanto credo che ormai il concetto sia chiaro e anzi settimana prossima andremo proprio a parlare sul perché la vostra ambientazione non debba diventare un'enciclopedia fantastica o un manuale d'ambientazione vero e proprio. Tra due settimane come ho detto ci sarà il video del complanno nel canale quindi se avete delle domande scrivetemene qua sotto. Per il resto se avete domande e dubbi o perplessità sulla fisica del mondo di gioco scrivete anche quello nella sezione dei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella per ricevere le notifiche. Io sono il Master K. E noi ci vediamo nel prossimo video.